Il tempo è il momento giusto, ora è il momento quello giusto anche perché ci sono moltissime risorse del PNRR e quindi si potrà fare una grande attività investigativa cercando di preservare questo territorio dalle mafie. Già l'anno scorso noi abbiamo definito una sezione della via a Foggia e ora è stato il momento della Brasilicata in un momento particolare e quindi ritengo che sia particolarmente importante.